La Toscana è la prima regione italiana per numero di strutture agrituristiche presenti. Erano 4061 nelle 2008. Secondo l'Istat è proprio in Toscana che si trova anche il maggior numero di aziende con ristorazione, 994, e quelle che offrono attività quali equitazione, escursionismo, osservazioni naturalistiche, trekking, mountain bike, corsi, sport, 2648 in tutto. Interessante anche il dato secondo il quale è sempre la Toscana da giudicarsi il primo posto nelle quote rosa dell'agriturismo. Sono 1645 le strutture gestite da donne, il 25,5% del totale nazionale. In Italia le aziende agricole autorizzate all'esercizio dell'agriturismo sono 18.480. Il 44,9% delle aziende agrituristiche si trova nel nord del paese, il 35,2% nel centro, il restante 19,9% nel mezzogiorno. In particolare nelle regioni settentrionali nel mezzogiorno si concentra la percentuale più alta delle aziende con ristorazione, rispettivamente il 44 e il 31% del totale. Mentre nell'Italia centrale è presente il 59% degli agriturismi con degustazione. Per quanto riguarda il decennio 98-2008 le aziende agrituristiche sono aumentate complessivamente del 90,2% passando da 9.718 a 18.480 unità.